Consigliera regionale Vitri, Vallefoglia e i comuni coinvolti dalle fusioni sono stati penalizzati dai fondi regionali. Ci può spiegare il problema? Tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino che si sono uniti risultano penalizzati rispetto agli altri comuni aggregati del resto della regione, soprattutto della provincia di Macerata. Cosa è successo? Il 4 di ottobre il presidente Acquaroli ha firmato in gran segreto, perché non lo ha comunicato, una delibera di giunta in cui rivede i criteri di assegnazione di contributi ai comuni che si sono fusi. Ora avranno di più i comuni che sono in numero maggiore, quindi più enti che si sono uniti rispetto al numero di abitanti. Ciò significa che se si uniscono 3 comuni, 4 comuni e hanno anche solo 5 abitanti, potranno avere un contributo più alto rispetto a 2 comuni uniti che hanno 20.000 abitanti. Mi sono accorta facendo le verifiche di questa delibera, ho notato che erano cambiati tutti i criteri, per cui ho fatto una simulazione cercando di capire cosa cambierà nelle marche. Noi abbiamo 8 nuovi comuni nati da fusioni e questi 8 comuni prima avevano un contributo su un fondo di 250.000 euro in totale, che era suddiviso per il 40% in base al numero dei residenti, 40% in base al numero dell'estensione territoriale e 20% in base al numero di comuni che si erano aggregati. Di solito sono 2, a volte sono 3, 4. Cosa cambia? Ora invece il 40% viene dato in base al numero di comuni che si aggregano, quindi più sono i comuni che si aggregano e più è il contributo, ma contano molto meno il numero di abitanti e residenti. Si crea una disparità allucinante anche perché viene messo un limite, cioè devono avere almeno il 5% di questo fondo e che succede? Che nella provincia di Macerati i microcomuni ottengono di più di tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino. Consideriamo che in tutta Italia, in tutte le regioni, le fusioni vengono favorite, tra un po' saranno anche indotte in modo quasi obbligato dall'Unione Europea perché permettono di risparmiare risorse alla macchina burocratica e quindi regione e Stato cercano di premiare chi segue dei processi di fusione. Vallefoglia ad esempio nel 2019 aveva avuto 136 mila euro. Pensiamo a quanti servizi ha offerto ai cittadini tra scuole, asili, manutenzione con 136 mila euro rispetto a quelli che potrà dare quest'anno con 30 mila euro.